Figli miei, sono Gesù misericordioso, presente in mezzo a voi. Sono venuto per prepararvi alla festa della mia mamma. Godo che abbiate desiderio di offrire a lei, che ne è degna, dei bei gigli, dei bei fiori rappresentati dai vostri bambini. Ma io vi dico che voi tutti siete i miei bambini e tutti dovete fare la stessa offerta, poiché davanti a Dio l'età non conta. Non vi ho detto che dovete essere tutti come bambini, se volete entrare nel regno dei cieli. Offritevi dunque con grande amore alla mia mamma, perché con il suo aiuto diventiate degni di essere offerti a me. Siate semplici e umili come i bambini. Sono queste le virtù che rapiscono il mio cuore. Siate fiduciosi e buoni come lo sono essi, che sanno perdonare e amare. Figli cari, questo mondo, fatto di fango, infanga ciò che di più bello vi è. L'innocenza. La purezza. La grazia. Vanno diventando cose di altri tempi. Le hanno perse le mamme queste belle doti e non sanno infonderne l'amore nelle loro creature, che sono prima di tutto mie. Mi piace la vostra preghiera per la preservazione degli innocenti dal male e dal peccato. Lasciate. Lasciate che i piccoli vengano a me. Insegnerò a essi ad amare le loro mamme e non andrà perso nulla. Mamme. Portatemeli nelle vostre chiese i vostri bambini. Non abbiate timore di disturbare i grandi, che ben altre cose turbano. Portatemeli perché la loro voce soffochi quella degli scandali. Del male che avviene nel mondo. Figli. Sono contento di voi. Vedo la buona volontà che vi anima. Non sconfortatevi così facilmente quando le cose non vanno come vorreste. Fate tutto ciò che potete e il resto lasciatelo fare a me. Nulla va perso di ciò che voi fate. Né le parole. Né le azioni. Né i desideri vanno persi. Ma tutto è contato e benedetto ciò che è fatto con retta intenzione. Benedico e amo tutti di amore infinito. Benedico quelle suore che hanno partecipato a questo raduno e che mia mamma bambina tiene sotto la sua protezione. E assicuro che per questo incontro ne avrà beneficio tutta la comunità. Vi aspetto. Con rinnovato desiderio di bene. Giovedì per ricevere dalla mia mamma consigli e aiuto.